Non solo controllori, ma professionisti responsabili. Questa è la carta d'identità dei Revisori Legali, illustrata da Virgilio Baresi, Presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali. Le norme che sono state portate e volute dalla legge su nostra indicazione e suggerimento è quello di non essere solamente i controllori cartacei, ma che sulla documentazione si deve verificare che essa sia vera nei contenuti, che risponde alle previsioni fatte da parte della società, sia pubblica che privata. Di non sottoscrivere mai la verifica fatta, se non effettivamente i controlli non sono esaustivi. Deve ricordarsi il Revisore che dal 1 gennaio 2017 alla terza età è quindi posto come giudice e quindi con risvolti di natura patrimoniale economica, anche personale, sia di fronte a attività private, aziende e società, con i propri beni personali. Nell'ipotesi invece dovrebbe usare scorrettezze per realtà di natura pubblica fino alla reclusione di sei anni. Quindi è un passaggio storico, importante per portare anche l'Italia al passo della chiarezza fiscale e di dare maggiori certezze al cittadino. E la formazione è un'altra tappa fondamentale della categoria dei Revisori Legali. Ogni Revisore, di fronte a quanto il MEF ha a suo tempo deliberato, ha affidato all'Istituto la possibilità di essere ente formatore e che quindi deve far sottostare tutti i Revisori Legali a 20 ore di preparazione obbligatoria se ne vuole incorrere nelle sanzioni e nella possibile cancellazione dall'elenco dei Revisori Legali presso lo stesso Ministero dell'Economia. Abbiamo ormai già organizzato 18 corsi in tutta Italia a brevissimo tempo perché i mesi per raccogliere i 20 crediti formativi sono solamente tre mezzi in questo primo anno, se saranno 20 poi per il 2018 e altre per il 2019, necessari e indispensabili.